La media gol è quella di un vero bomber, una rete ogni due partite. Peccato che Tommaso Morosini giochi da mezzala, il rigore segnato contro il Ravenna e il suo nono sigillo in 18 gare senza contare le tre marcature in Coppa Italia. Nessun centrocampista nei campionati professionistici ha fatto meglio di lui. Numeri che risvegliano le sirene del mercato, il nome del 28enne Bergamasco è sui tacquini di molti direttori sportivi. Lui ha da poco rinnovato fino al 2023 con l'Alto Adige, ma c'è da giurarci che già nel mercato di gennaio possano arrivare offerte allettanti. Il diretto interessato si schermisce e si dice concentrato sulle prossime sfide, tra cui quella con la sua ex squadra, il Piacenza, che sarà di scena allo Stadio Druso domenica prossima. Altro che calciomercato, il salto di categoria Morosini lo vuole conquistare sul campo con i biancorossi.